Nonostante l'assenza del governatore Frattura che ha rimandato la discussione sul riordino di piani sanitari a data da destinarsi, il Consiglio regionale, presieduto dal presidente Vincenzo Cotugno, ha approvato all'unanimità la proposta del consigliere di centro-destra Angela Fusco sull'attivazione dell'osservatorio regionale e sulle politiche sociali. Il dibattito si è spostato dunque sul tema della nuova organizzazione dei conservatori e sulla battaglia a difesa della Corte d'Appello di Campobasso e dei tribunali di Isernia e Larino. Un documento illustrato in aula dal primo firmatario, il consigliere Salvatore Ciocca. Nei giorni scorsi, si legge nel documento approvato, il Comitato Unitario per la Salvaguardia della Corte d'Appello di Campobasso ha rilanciato il rischio chiusura del presidio di legalità. L'allarme lanciato dal Comitato Unitario trova fondamento in un ulteriore documento al vaglio della Commissione parlamentare in cui si proporrebbe al Governo nazionale una bozza di delega basata su criteri la cui adozione determinerebbe, si sostiene nell'ordine del giorno, la chiusura delle cittate sedi giudiziarie molisane. La massima assise regionale con il documento votato intende sottolineare come il verificarsi di tali soppressioni rappresenterebbe ad un tempo il primo passo verso la definitiva cancellazione dell'identità regionale e la scomparsa di imprescindibili presidi di legalità sul territorio, impegnando il Presidente Frattura a contrastare il riassetto della geografia giudiziaria del Paese. A rappresentare la posizione del Governo regionale il neo vicepresidente della Giunta, Vittorino Facciolla, a lui il compito di dare risposte in aula e all'assessore ai lavori pubblici, Pierpaolo Nanni, quello di rassicurare i dipendenti dell'ATM, arrivati in Regione insieme al Focus per la Difesa della Sanità Pubblica, sindacalisti e studenti per protestare contro i ritardi nei pagamenti dei loro stipendi.